Ebbene sì, ho in visita all'incirca 5.000€ su questa azione qua. Prima di partire però, se questa tipologia di video vi piace, voglio che questo video qua raggiunga i 150 likes entro domani. Soprattutto perché, come potrete vedere, vi lascio la possibilità di scaricare il mio file Excel con tutta la valutazione che si aggiornerà per sempre. Attualmente per 2 o 3 giorni lo lascerò gratis sul mio sito, trovate il link in descrizione. Ovviamente dovete semplicemente cliccare poi qua sopra, fare aggiungere a carrello, lo comprate e pagherete 0. Ovviamente questa promozione vale solo per 2 o 3 giorni. Detto questo, ovviamente oltre ad Amazon trovate anche la valutazione di Alphabet e Facebook per ora. Fatemi tra l'altro sapere quale potrebbe essere un'azione che vi interessa, magari da farci un video o semplicemente da mettere qua in vendita la mia valutazione insieme ovviamente al mio socio. Tra l'altro adesso vi farò vedere cosa otterrete nel momento in cui andrete a comprare la nostra analisi. Tra l'altro non so se tutti lo sanno ma io gestisco 3 portafogli. Uno è quello pubblico che tra l'altro potete vedere nell'ultimo video o semplicemente se volete avere l'accesso annualmente potete semplicemente comprare il pacchettino qua. Se no comunque oltre a quel portafoglio lì io gestisco anche una parte di portafogli di mio padre ed è proprio per questo motivo qua che ho investito di fatto all'incirca 5.000 euro su Amazon. Perché per chi non lo sapesse ho due azioni Amazon all'incirca a un prezzo medio di 2.200 più o meno. Mentre sul mio portafoglio sto facendo un pieno di accumulo o all'incirca 0,3 azioni quindi ho all'incirca 800 euro sopra su Amazon investiti. Non ci sto guadagnando niente semplicemente perché sto continuando a comprare quindi attualmente di fatto non sto facendo nessun profit. Ora però partiamo con l'analisi. Ovviamente non starò a spiegare il modello di business di Amazon perché penso che tutti la conosciate. Quindi non ha senso secondo me perdere troppo tempo in queste cose qua. Magari per altre aziende andrò a farvi un po' più l'analisi dettagliata per quanto riguarda il modello di business. Però penso che comunque conoscete tutti qual è il modello di business di Amazon. Su questo sito qua appunto come potete vedere ci suddivide in un grafico quali sono i segmenti delle revenue di Amazon. Come potete vedere ha la maggior parte dei ricavi tramite l'e-commerce, negli store online. Poi ha anche una micro parte di ricavi nei physical stores. E quello che sta crescendo di più, la fetta che sta crescendo di più è Amazon Web Services. Ma proprio perché noi, ovvero io e il mio socio, vogliamo avere tutti i dati all'interno dello stesso foglio, vogliamo che siano di grande impatto visivo, abbiamo creato un foglio che si aggiorna automaticamente, ovviamente inserendo noi i dati, si aggiorna e dà una valutazione che cambia nel tempo. Perché ovviamente ragazzi voi non potete fare una valutazione su un'azienda e poi mantenere la stessa valutazione trimestre su trimestre. Perché ogni trimestre in teoria la valutazione dovrebbe cambiare. Ed è per quello che noi abbiamo automatizzato questo processo qua. Semplicemente quello che dovreste fare tutti lo facciamo noi e spalmiamo il costo di queste ore qua tra tutti voi. Come potete vedere una volta che scaricherete il file vi compariranno tre facciate. La prima è questa dove avrete un'analisi di primo impatto sia sul conto economico sia sul stato patrimoniale e anche qua gli ultimi 5 anni. Abbiamo scelto i dati più importanti, quelli che a noi interessavano di più. Ovvero la crescita dei ricavi, la crescita degli utili antiimposti, l'utile netto, il free cash flow, il gross income, le bidda e soprattutto il patrimonio netto. Infatti verrà automaticamente creato un grafico che vi mostra la crescita del patrimonio netto e anche la crescita degli altri dati. Che è molto molto interessante da non sottvalutare. Una volta inseriti questi dati qua verrà calcolato in automatico tutti gli indici di bilancio che noi riteniamo più importanti. Infatti se voi andate su rapporti avrete tutti gli indici di bilancio che secondo noi sono i più interessanti e soprattutto di fianco avrete anche una nostra valutazione sull'indice in sé. Ad esempio come potete vedere al nostro modo di vedere Amazon ha uno stato patrimoniale che ha una valutazione di all'incirca 5,71. Considerate che noi siamo stati molto molto conservativi ed è per questo che in ogni nostro file un voto dal 6 in su è un bel voto. Questo perché lo facciamo? Lo facciamo semplicemente perché noi vogliamo essere molto molto conservativi e quindi vogliamo premiare maggiormente le aziende che hanno bilanci solidi. Al modo di vedere questo in futuro ma anche nell'ultimo anno ci ha creato un grande vantaggio statistico. Infatti il nostro voto dal sottopatrimoniale di Amazon è 5,71 ma la cosa figa è che questo rating qua si aggiornerà ogni volta che uscirà un nuovo sottopatrimoniale di Amazon quindi ogni trimestre. E il tutto verrà fatto automaticamente. Voi semplicemente comprerete l'accesso al file e ogni volta che noi andremo a modificare il file la modifica verrà effettuata anche sul vostro foglio e questo vi permetterà di sempre essere aggiornati sul titolo. Per quanto riguarda invece il conto economico il voto è molto più alto perché ha un gross margin molto alto, l'ebitda margin è molto alto e come potete vedere anche il ROE e il ROA molto molto alti. Invece l'interesse che paga sull'utile netto è basso in percentuale e quindi abbiamo assegnato un voto di 7. Abbiamo anche inserito il tax rate perché vogliamo capire quanto effettivamente le aziende sono in grado di pagare meno tasse cercando di eluderle. Infatti Amazon che è considerata da molti una delle tante aziende multinazionali che riesce in qualche modo a deludere le tasse infatti paga all'incirca il 14% rispetto all'utile netto e questo ha assegnato secondo i nostri criteri un voto di 9 su 10 quindi un voto molto molto alto. Per quanto riguarda invece il rating multipli prezzo noi siamo andati a prendere quali sono i multipli più interessanti e gli abbiamo dato una nostra valutazione. Ad esempio il price earnings di Amazon di 62 è un price earnings molto alto e considerate che a mio modo di vedere un'azienda sottolutata tenendo conto solo come multiplo il price earnings è all'incirca sotto i 25. Diciamo che 62 a mio modo di vedere è giusto che riceva un 4. Il price to 6 è molto più conservativo infatti come sapete Amazon non ha margini enormi però fa veramente tantissimo tantissimo fatturato. Infatti il price to sales di 3,8 è un price to sales che secondo i miei criteri merita un voto di 6. Il price to book è molto molto alto e infatti il voto è 3. Il price to free cash flow ha un voto di 4 e così via. Il PEG invece e il price to sales growth scontano questi due dati qua con la crescita. Infatti un PEG di 2,06 è un PEG diciamo che si salva malapena. Secondo me sotto il 2 inizia a essere interessante. Invece il price to sales growth di 0,8 è molto 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 buono. Infatti è un voto di 10. Per quanto riguarda l'analisi tecnica noi siamo andati a prendere quali sono 5 indicatori un po' interessanti. Ad esempio io guardo molto la percentuale di short sul titolo. Infatti delle azioni outstanding Amazon è veramente poco 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 shortata. L'indice RSI è di 49 quindi diciamo a metà e va bene infatti ha un voto di 6. Il target a un anno nostro è all'incirca al di sopra del prezzo attuale del 30% quindi un voto di 10. E invece questi dati qua sono dati che calcolano la distanza che c'è tra la media esponenziale a 20 periodi e quella a 50. Diciamo che sono dei dati che noi abbiamo inserito per dare anche un po' di momentum all'azione. Però secondo me sono da considerare sì ma non troppo. Infatti noi abbiamo dato un peso meno importante sul rating finale. Per quanto riguarda invece la nostra valutazione finale ovvero il price target che noi diamo a 5 anni sia su Amazon ma sia su anche altre aziende che potrete comprare è di BOOM. Il possibile prezzo di Amazon secondo le nostre stime è di circa 9.800 dollari per azioni. Questo ci garantirebbe all'incirca in 5 anni un profit loss del 200% ed è per questo che io nel mio portafoglio ho Amazon come prima posizione. È l'azienda su cui ho investito più soldi. Infatti noi stiamo all'incirca a una crescita media del 30% annua e stiamo parlando di crescita non dei ricavi ma dell'utile per azione. Nemmeno dell'utile. Dell'utile per azione che quindi si alza ogni volta che Amazon farà dei buyback. Ed è per questo che ovvio non dovete pensare che Amazon probabilmente anche perché non riuscirà ad aumentare i ricavi del 30% annuo ogni anno per i prossimi 5 anni. Ma sull'utile per azioni io sono più che sicuro che riusciranno a farlo. E infatti sono stato anche abbastanza conservativo nel PE. Infatti il PE che ho messo io è all'incirca di 50 che secondo me è un PE abbastanza basso per Amazon. Ovviamente se voi volete essere un po' più conservativi e utilizzare un PE di 40 ti mando sempre una crescita del 30% annua dell'utile per azione. Fate molta attenzione. Il prezzo che stimiamo noi tra 5 anni è all'incirca di 7800 dollari. Questo ci garantirebbe non più il 200% di profit loss ma il 140% in 5 anni considerate sempre. E quando dico che secondo me gli utili per azione cresceranno molto di più rispetto ai ricavi. Lo dico anche e soprattutto perché come potete vedere qua Amazon spende tantissimi soldi in research and development. Infatti ha investito all'incirca 42 miliardi nell'ultimo anno in ricerca e sviluppo. Ragazzi è praticamente più del 10% dei ricavi e Amazon fattura tantissimi soldi. Quindi nel momento in cui Amazon vorrà, perché ad un certo punto vorrà farlo, aumentare i margini ci riuscirà e lo farà a dismisura. Considerate che l'utile per azione negli ultimi anni è cresciuto del 25% un anno, poi del 227%, poi del 14% e dell'81% nell'ultimo anno. E qua potete vedere tutto, tutto molto molto dettagliato. I ricavi infatti sono aumentati del 183%, l'utile anteposto del 521%, l'utile netto dell'800%, il free cash flow del 300%, il gross income del 220%, l'ebitda del 280% e l'equity, ovvero il patrimonio netto del 58%. Ricordo come sempre che questa valutazione qua si aggiornerà costantemente, quindi se volete andare a acquistarla, ovviamente quella di Amazon per 2 o 3 giorni sarà gratis, poi ovviamente diventerà pagamento. Mentre queste qua sono già a pagamento. Penso che forse ne farò uscire una al mese gratuita con un annesso video. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente ragazzi, ci vi chiamo al prossimo video.